Oggi andiamo a vedere una partita che se non fosse stata registrata nessuno mi avrebbe creduto nella maniera più assoluta Siamo ancora una volta a bordo del mio incrociatore giapponese Zao Come ho detto ragazzi in questo periodo probabilmente fino per tutta la durata delle ranked battles alternerò davvero poche navi alle varie partite Quindi se qualcuno si stesse chiedendo come mai tanti gameplay della Zao semplicemente perché sto giocando esclusivamente le ranked Chi mi conosce e chi mi segue da anni sa che quando ci sono le ranked io mi concentro al 100% in questa modalità Semplicemente per l'acciaio non per altro Ebbene fatta questa premessa doverosa che ho fatto in altri video però lo ripeto eccetera eccetera Lo ripeto Due cacciatori perinieri Shima Gehring contro due corazzate, quattro incrociatori, mappa tridente, corsa agli armamenti Vorrei la vostra attenzione massima per quello che sta per succedere dopo che la partita è iniziata praticamente da circa 30 secondi Quindi tenete d'occhio il nostro incrociatore in C6 vedete tra poco cosa va a fare Non aggiungo altro perché io in questa partita ripeto neanche io ci volevo credere a quello che stava succedendo mentre stavo giocando Dico no è uno scherzo, no non è uno scherzo abbiamo l'incrociatore francese che non si sa per quale assurdo motivo va a sparare il nostro cacciatorpediniere E di conseguenza diventa rosa, è un team killer vuol dire che lui entra nelle partite e dà fastidio O perlomeno è quello che sta facendo in questa partita e dà fastidio ai nostri giocatori Cosa ancora più negativa, siccome lui spara viene spottato e di conseguenza viene subito mirato dalle navi nemiche Capirete bene che immediatamente pronti via le subito magia abbiamo E come avere in questo momento una nave in meno perché quel giocatore a quanto posso capire non ha alcun interesse nel giocare la partita E qui si apre una parentesi molto molto importante Ragazzi se qualcuno fosse stanco delle ranked e che ne ha giocate tante, ne ha vinte tante oppure ne ha perso tante Io il consiglio che vi do è di smettere di giocare perché magari qualcuno potrebbe come dire uscire pazzo da questa modalità E la Henry che va a sparare al nostro cacciatore peniniere penso che sia un chiaro esempio di cosa non bisogna fare durante una partita in generale Ma ancora di più nelle ranked dove praticamente il numero dei giocatori è davvero molto ridotto e quindi ogni singola nave conta Io qui ero già... stavo pensando ma cosa cavolo sta succedendo Proviamo a fare qualcosa, lanciamo dei siluri sul lato sinistro Abbiamo le AP perché volevamo in qualche modo beccare il desse che tra l'altro è riuscito non so come a salvarsi Volevo in qualche modo veramente trovare la cittadella Spariamo le AP contro la India perché altri bersagli non ci sono Il nostro incrociatore va in B7 ma la cosa ancora più terribile è incredibile Dicevo, la cosa ancora più incredibile è che il nostro cacciatore peniniere a quanto pare vuole vendicarsi Sta seguendo il nostro incrociatore quindi noi allo stato attuale stiamo giocando in... Non lo so in quanti stiamo giocando, non voglio dire che sto giocando solo io Altrimenti sembra che me la tiro, non è nella maniera più assoluta così Però vorrei capire chi in questa partita sta sparando oltre a me perché le cose vanno abbastanza male Ciò nonostante andiamo a mettere esattamente una cittadella e nello stesso tempo tre silure a segno sulla Conqueror Abbiamo fatto 80.000 danni in 4 minuti, veramente così tanti, ottimo Ciò nonostante ancora una volta abbiamo 4 navi sul settore di destra Se fosse stata una partita, come dire, normale Penso che il nostro Henry avrebbe provato a flancare sulla colonna 9-10 Ad avanzare in quel settore e poi a sparare Ma la cosa ancora più grave è che ovviamente la loro manovra, quella della Henry e quella del cacciatore periniere Viene in qualche modo, va a destabilizzare quella che è la squadra Perché ovviamente già che tu vedi due giocatori, uno in A7 e il cacciatore periniere in B7 Le cose non vanno nella maniera più assoluta Inoltre in questa partita avevo scritto al cacciatore periniere Avevo suggerito di ignorare l'incrociatore francese Perché la cosa peggiore che potesse accadere è che l'incrociatore francese venisse fatto uscire dalla partita Perché magari continuava a colpire il nostro aliato Quindi quando trovate queste situazioni ragazzi Io vi consiglio Facciamo anche il primo sangue con i fuochi di artificio, vabbè, un'altra cosa E vi consiglio di ignorare quando ci sono dei team killer all'interno della partita Perché adesso che succede? Per citare una citazione famosa Che succede? Abbiamo perso la corazzata tra l'altro Quindi noi allo stato attuale stiamo giocando in 4 contro 6 Perché loro hanno perso una corazzata distrutta dal sottoscritto Abbiamo due navi completamente inutili in B6 Quindi stiamo giocando allo stato attuale, ripeto ancora una volta, in 4 contro 6 Ecco, questa è una delle cose che odio di più Ma non solo perché una rank ed tanto capirà alla fine la stellina come la perdi così la riottieni È proprio una cosa che secondo me non sta né in cielo né in terra Il fatto di fare queste team kill Io non le concepisco La Henry viene timbrata e il cacciatore periniere si trova ancora in A6 Abbiamo ottenuto grosso calibro in circa meno di 7 minuti Meno di 7 minuti, 120.000 danni, grosso calibro, prima kill, 2 cittadinelle, 3 siluri, 2 incendi e una falla Diciamo che noi in qualche modo tra virgolette ci stiamo credendo Ci vogliamo credere, ci vogliamo provare per cercare di riportare a casa Quanto meno di salvare la stellina Perché vincere una partita dove parti già fin dall'inizio con delle navi in meno che sparano Non è una cosa fattibile È una cosa che uno già sa che la partita la va a perdere Ciò nonostante, se dobbiamo perdere Facciamolo con onore Cerchiamo di impegnarci al 100% Di continuare a sparare Fino a questo momento abbiamo fatto due cittadine Abbiamo fondamentalmente uno Stalingrad che sta affrontando la montana E lì sinceramente non so come aiutarlo nella maniera più assoluta Io posso solo pensare a questo lato Posso lanciare dei siluri preventivi I famosi siluri preventivi Tra l'altro apro l'ennesima parentesi Ieri una persona si stava particolarmente arrabbiando Perché con una montana era distante 16 km Ho lanciato i miei siluri Però lui siccome si stava avvicinando i siluri Sono riusciti a beccarlo in pieno Poi vabbè vi lascio immaginare cosa ha scritto in chat Ci sono tra l'altro diversi gameplay di come I siluri della Zao riescono a colpire le navi Anche a 16 km Perché non è che il siluro arriva a 16 km No, è la nave che rientra Nei 12 km Ovvero la citata dei siluri della Zao Spero di essere stato abbastanza chiaro Abbiamo fatto due cittadelle allo Yoshino Qui stiamo cercando di sopravvivere alle AP Non so di cosa Abbiamo fatto quattro cittadelle allo Yoshino È rimasto con 5.000 punti vita Per favore ce la possiamo fare Concentriamoci nella maniera più assoluta Siamo a 164.000 danni In meno di 8 minuti Che succede? Abbiamo fatto un'altra chile Abbiamo fatto un'altra cittadella allo Yoshino Siamo saliti a 9 cittadelle 170.000 danni in 8 minuti Mentre stavamo giocando con 4 giocatori Con 2 giocatori in meno Ma in realtà è come se In questa partita veramente Mentre la stavo giocando Stavo pensando Ma sto sparando solo io? È effettivamente 7 contro 7? Oppure sto sparando da solo? Io non ci volevo credere E tuttora non ci credo Di quello che sta succedendo Fatto sta che abbiamo il vantaggio numerico Che per quanto possa significare Comunque è pur sempre un vantaggio Un'altra cittadella La decima della partita Sono estere fatto Nel frattempo che la partita va avanti Ragazzi vi ricordo Due cose fondamentali Ogni giorno mi trovate live A partire dalle 14.30 Sul mio canale Mixer Mixer è una piattaforma streaming Che sta prendendo sempre più piede Link in descrizione Se volete provare il gioco Completamente gratuito Scusate ma se ne va la voce Quindi devo Ho capito Ok Se volete provare il gioco Completamente gratuito Link in descrizione Che vi da due navi L'incrociatore Diana Di livello 2 sovietico La corazzata Warspite Premium inglese E più una serie di vantaggi Basta semplicemente giocare Per ricevere i suddetti vantaggi Per i nuovi giocatori Quindi se io ho un account Questo link Non funziona Io vi ringrazio ragazzi Perché nell'ultimo periodo Siete numerosissimi Uno che mettete mi piace Due che commentate Tre che utilizzate il mio link Di World of Warships Quattro che Insomma Seguite proprio i video Con attenzione Vi interessano Vi piacciono E io di questa cosa Sono particolarmente felice Spero che il mio Non lavoro Il mio passatempo In qualche modo Mi fa piacere Che sia condiviso Anche con altre persone Di tutta Italia Dal nord Al centro Le isole Al sud Siete fantastici Tutti quanti L'Italia che ci piace L'Italia che deve rimanere unita Ancora di più In questo periodo Davvero fantastico Che discorso profondo Andiamo a lanciare Ancora una volta i siluri Per il discorso Che ho fatto precedentemente Se la nave sta avanzando E i siluri si stanno avvicinando Vuol dire che Rientrerà Si spera Dentro i 12 km Una volta entrato Dentro i 12 km Si spera Ripeto ancora una volta Che possono causare Dei danni Molto molto interessanti Vi ricordo Che i siluri Della Zao Sono i più devastanti Del gioco O tra i più devastanti Parliamo di un danno Di 23.767 Se la memoria Non mi inganna Sicuramente Siamo sopra i 23.000 E capirete bene Che un singolo siluro Ha delle navi leggere Ma a tutte le navi Può causare Dei danni Ripeto ancora una volta Davvero molto molto Ingenti 185.000 danni Abbiamo fatto in questa partita Ora Non mi va di dire Che l'ho vinta da solo La partita Perché non sono il tipo Che dice Eh ho fatto tutto da solo No La squadra comunque Pur poco Qualcosina l'ha fatto Perché come ho detto all'inizio Avevamo due navi in meno Fondamentalmente La corazzata è andata giù subito Quindi veramente Una partita che ha Dell'incredibile E a fine partita Vado a fare Vabbè Perforazione eccessiva 8 Non ci voglio credere A fine partita Tra l'altro andrò a fare Complimenti ai due Stalingrad Che effettivamente Sono riusciti a gestire Le navi Insieme al sottoscritto 5300 qualcosa Una base difesa La voce Se ne sta andando Non ho più voce Per commentare Vediamo se lui 945940 Adesso risultati Posto scontro Ragazzi Io ho un limite Di mi piace Non lo metto Però Se questo video Non raggiunge Almeno i 200 mi piace Un fallimento totale E uno schiaffo Per la partita Appena giocata Uno schiaffo Veramente All'impegno Video terminato Io come sempre Vi ringrazio per i like I commenti Le visualizzazioni Il video sta per terminare Ce l'ho fatta Noi ci vediamo domani Con un nuovo gameplay Ciao Ciao